Prego tutti i relatori di contenere i rispettivi interventi in dieci minuti ciascuno. Prego, Ministro Alfano. Grazie, Presidente. Farò di tutto per contenere il mio intervento nei dieci minuti, benché abbia molte cose da dire. Saluto innanzitutto tutti i gentili rappresentanti delle commissioni parlamentari qui convenuti a Roma, che stanno svolgendo un compito davvero importante per la Unione Europea, perché la collaborazione tra i Parlamenti non è meno importante della collaborazione tra i governi. Il Presidente Manconi, che mi ha preceduto, ha usato parole chiare essenzialmente sul diritto d'asilo. ed io, recuperando il titolo di questo incontro, che è dedicato alla immigrazione e all'asilo, concentrerò dunque, per non sovrapporre le mie parole alle sue, maggiormente la mia attenzione sul tema specifico della immigrazione. Ed è per me un privilegio, e spero che sia per voi un elemento di novità, quello di poter riferire a voi degli esiti del Consiglio dell'Unione Europea per giustizia e affari interni, che si è svolto la scorsa settimana a Lussemburgo. È stato un consiglio molto importante, al quale io ho partecipato presiedendolo, e che si è mosso sotto la spinta della Presidenza italiana, che ha presentato un documento che, essendo trascorsi pochi giorni dalla sua approvazione, è ragionevole pensare che non sia ancora conosciuto nel dettaglio dai Parlamenti europei. Ed io stesso ho inviato questa mattina ai Presidenti delle Commissioni parlamentari competenti nel nostro Paese e ai Presidenti delle Camere copia del documento approvato, perché in concreto il documento, per rispondere alla pressione migratoria in modo strutturale, e anche coerentemente con l'impegno assunto dalla nostra Presidenza, è stato sottoposto al Consiglio del giorno 9 del Lussemburgo ed è stato denominato azioni da intraprendere per gestire meglio i flussi migratori. Questo documento ha offerto, a nostro avviso, un modello innovativo per la gestione sostenibile e flessibile dei flussi migratori ed è stato condiviso a tal punto dagli altri Stati membri da essere incorporato nelle conclusioni del Consiglio. Dunque, ciò che vi dirò non è una ipotesi di lavoro, ma fa parte delle conclusioni del Consiglio Giustizia e Affari Interni di Lussemburgo. I tre pilastri del documento comprendono la cooperazione con i Paesi terzi, con particolare attenzione alla lotta contro i responsabili della tratta e del traffico di esseri umani, il rafforzamento della capacità di Frontex di rispondere in modo flessibile e tempestivo ai rischi e alle pressioni emergenti e, infine, le azioni in ambito di Unione Europea per sostenere e attuare pienamente il nostro sistema europeo comune di asilo, anche attraverso una maggiore cooperazione operativa. Si tratta di un approccio strategico e, al tempo stesso, di un approccio operativo e si basa sui risultati dell'attività della Task Force Mediterranean e mira a razionalizzare la loro attuazione in modo flessibile per adeguarli alle tendenze emergenti dei flussi migratori. Vorrei fare due osservazioni. La prima osservazione è proprio sulla Task Force Mediterranean. Esattamente un anno fa mi trovai in una sede analoga, e cioè un Consiglio GAI, Giustizia e Affari Interni, due giorni dopo la tragedia di Lampedusa. Ed io, che sono nato da quelle parti, sono nato proprio dalle parti di Lampedusa, cioè quando finisce la provincia della mia nascita, dove io sono nato, cominciano le acque internazionali e finisce l'Europa, io mi trovai, in quella circostanza, a raccontare del dramma di Lampedusa e a dovere aggiornare in diretta il bilancio dei morti, riferendo che era morta anche una donna con al grembo, attraverso il cordone umbilicale, attaccato ancora il proprio bambino. Lì proposi la creazione di una Task Force. Quella Task Force ha avuto la collaborazione di molti Paesi, ha prodotto dei risultati, e quei risultati, in buona misura, si sono trasformati in fatti realizzati. Dico questo perché è uno di quei casi in cui l'Europa è stata presente ed è stata anche unita. Purtroppo lo è stato a seguito di un'emergenza e quindi, a nostro avviso, lo scopo strategico dell'Europa deve essere quella di essere presente sempre, a prescindere da una tragedia. Ma oggi, dopo un anno, noi raccogliamo in questo documento linee operative, strategie della Task Force Mediterranean che fu l'epilogo e l'esito del dibattito al Consiglio Gai dello scorso anno dopo la tragedia di Lampedusa. La seconda premessa mi serve per affrontare meglio il tema di Frontex. E la seconda premessa è che le pressioni che si sono registrate su un tratto di frontiera terrestre tra Grecia e Turchia al confine terrestre bulgaro-turco si stanno ora concentrando principalmente sul Mediterraneo. E allo stesso tempo la instabilità al confine orientale, cioè l'Ucraina, le minacce emergenti in Medio Oriente, specificamente in Iraq, come nei paesi della Via della Seta ed i flussi dai Balcani occidentali devono essere attentamente monitorati perché potrebbero potenzialmente creare nuove pressioni alle quali l'Europa nel suo insieme deve essere pronta a rispondere in modo tempestivo. in concreto i tre elementi chiave del documento riguardano la cooperazione con i paesi terzi, è il primo pilastro, il secondo pilastro è il rafforzamento di Frontex e le azioni in ambito dell'Unione Europea proprio per sostenere in modo omogeneo il nostro sistema comune di asilo. Per quanto riguarda la cooperazione con i paesi terzi, pensiamo che le azioni da quelle parti lì, cioè nei paesi terzi, debbano riguardare in via prioritaria i paesi di origine e transito dei flussi localizzati in Africa e Medio Oriente, senza dimenticare i paesi asiatici della Via della Seta, come dicevo poc'anzi, soprattutto l'Afghanistan, il Pakistan e il Bangladesh. In particolare le iniziative immediate dovrebbero essere finalizzate principalmente a prevanire le partenze e con esse le morti in mare. Tra le azioni comprese in questo ambito, ricordo quelle di law enforcement, volte a rafforzare la capacità dei paesi terzi nella gestione delle loro frontiere, anche grazie a programmi di assistenza tecnica, all'affiancamento degli ufficiali di collegamento per favorire lo scambio di informazioni, nonché all'utilizzo di squadre investigative congiunte per combattere le reti criminali dedite alla tratte e allo sfruttamento della immigrazione illegale. Da questo punto di vista devo dire che durante l'operazione Mare Nostrum le forze di polizia italiane e le forze dell'ordine italiane con il contributo determinante della magistratura hanno arrestato oltre 500 scafisti e mercanti di morte. Altrettanto rilevanti sono le azioni che sono intese a rilanciare con la cooperazione dell'alto commissario dell'ONU per i rifugiati programmi di protezione e sviluppo regionale in Africa settentrionale, nel corno d'Africa e in Medio Oriente. E non ultimo il ruolo dei programmi di rimpatrio volontario assistito gestiti dalla Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Queste iniziative, che sono immediate, ma che certo non sostituiscono altri interventi di più lungo termine, contribuiscono a stabilizzare le comunità migranti, a smantellare le reti criminali che traggono profitto dal traffico di immigrati e dalla tratta di esseri umani e contribuiscono a ridurre viaggi pericolosi via mare verso l'Unione europea e dunque le morti in mare, nonché ad incentivare i Paesi terzi nell'attuazione di una più stretta cooperazione con l'Unione europea in materia di migrazione secondo il principio del more for more. Riguardo il rafforzamento di Frontex, la sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione europea è di interesse vitale per tutti gli Stati membri. Di conseguenza non possiamo non cooperare strettamente con Frontex e consolidarne la presenza nel Mediterraneo centrale che al momento è il punto di massima vulnerabilità dei confini esterni dell'Unione. E a questo scopo partirà fin dai primi di novembre la nuova operazione congiunta denominata Triton, al cui avvio corrisponderà il phasing out di Mare Nostrum. Il documento italiano, che è diventato conclusione del Consiglio europeo, il Consiglio dell'Unione europea, settore affari interni e della giustizia, prevede questo documento anche che il rafforzamento delle capacità operative di Frontex consenta un più agile svolgimento delle procedure di identificazione dei migranti, la raccolta di informazioni, lo screening di casi vulnerabili, lo screening di persone bisognose di cure mediche e tutto questo per provvedere subito alle loro esigenze al momento dello sbarco. Il rafforzamento di Frontex che abbiamo delineato non incide sulla natura dell'Agenzia che quindi rimane di ambito civile, perché Frontex preserva la sua natura civile e la sua attività conferma e valorizza l'impegno dell'Unione europea a sorvegliare le frontiere esterne comuni. E su questo aspetto vorrei fare una considerazione politica, benché il tempo a mia disposizione stia scadendo. Badate bene, il tema del rafforzamento di Frontex e del presidio della frontiera oggi sembra sinonimo, sembra dire la stessa cosa, una cosa equivalente all'intervento in mare nel Mediterraneo. Ma chi guardi alle frontiere dell'Unione europea, alle pressioni che ci sono nei Balcani, sa bene che la creazione oggi di un precedente virtuoso di intervento nel Mediterraneo centrale in una condizione di emergenza, è il precedente per un intervento più forte di Frontex, di cui noi speriamo non ci sia mai bisogno, anche su tutte le altre frontiere dell'Europa, a cominciare da quella che potrebbe subire una nuova pressione che è la frontiera dell'Est. Quindi il rafforzamento dell'idea di una frontiera europea, il rafforzamento dell'idea di un presidio di quella frontiera attraverso l'agenzia che è evocata, che è chiamata a questo scopo, e cioè Frontex, risponde esattamente all'idea per cui un grande continente politico che decide di cancellare tutte le frontiere interne che le guerre del secolo scorso avevano disegnato e che appunto sono state cancellate grazie a Schengen, è il meccanismo per disegnare e presidiare quella esterna. Del resto non esiste nella storia del mondo una unione di Stati o una confederazione di Stati che nel momento in cui si fa tale, cioè unione di Stati o confederazione di Stati, cancelli le frontiere interne e non disegni e presidi quelle esterne. Questo è un punto fondamentale che rappresenta un avanzamento della Unione Europea che, a mio avviso, viene molto richiesta dai popoli europei. Riguardo le azioni contenute nel documento per la compiuta attuazione del sistema comune di asilo, è bene ribadire che il sistema comune europeo di asilo si basa innanzitutto su di una efficace cooperazione e solidarietà tra gli Stati membri e questi devono per un verso garantire un sistema nazionale flessibile per l'accoglienza e l'asilo che sia in grado di rispondere anche a flussi improvvisi e, per altro verso, debbono registrare ed inserire tempestivamente nella banca dati Eurodac le impronte digitali per consentire l'individuazione del Paese di prima accoglienza e contrastare le prassi elusive di identificazione dei migranti. In particolare, sulla base del documento presentato e approvato dal Consiglio GAI di Lussemburgo, le misure da noi individuate per la tempestiva identificazione dei richiedenti asilo mirano a garantire che le impronte siano rilevate non appena possibile e ad impedire che vi sia una fuga che derivi dal rifiuto della rilevazione delle impronte digitali. Ma la premessa di questo punto è che comunque sempre devono essere rispettati i diritti fondamentali, anche nell'assunzione delle impronte digitali. Ed inoltre informare tempestivamente i migranti al momento dell'arrivo dei loro diritti ed obblighi e delle conseguenze del mancato rispetto delle norme in materia di identificazione. L'importanza del documento adottato è anche evidenziata dalla integrazione di tutte le strutture europee che sono coinvolte nella sua attuazione, un meccanismo questo che innesca rapporti virtuosi di fiducia reciproca tra gli Stati membri spingendoli ad aumentare il livello di cooperazione. È perché la nostra opinione è che solo attraverso un'articolata serie di azioni collettive e cioè europee ispirate alla solidarietà tra gli Stati membri che potremo delineare una politica migratoria e di asilo comune europea credibile, sostenibile e efficace. Solo in questo modo ce la potremo fare attraverso una virtuosa azione comune, un virtuoso coniugio sposalizio dei due grandi principi che reggono l'unione tra i nostri Paesi e cioè la solidarietà e la responsabilità. Solidarietà e responsabilità trovano un punto di intersezione nel settore della immigrazione che è straordinario. Devono andare insieme e devono sposarsi. Solidarietà e responsabilità. Perché noi tutti siamo consapevoli che non stiamo affrontando una questione di emergenza. È una questione strutturale di questo tempo della storia. Una questione strutturale di un tempo della storia che chiede ai governi e ai parlamenti di essere all'altezza di questa sfida enorme, tra cui, anzi, all'interno della quale svolge un ruolo fondamentale la nostra Unione, l'Unione europea. L'Unione europea deve sapere accogliere con saggezza e deve sapere gestire questa grande sfida. Noi speriamo di avere dato un contributo con la Presidenza italiana e confidiamo che, attraverso la realizzazione dei punti di questo documento, quando questi punti saranno attuati, l'Unione europea possa dirsi più forte per avere saputo gestire una delle più grandi sfide del nostro tempo.